Un piano straordinario di interventi finalizzato a prevenire e reprimere il fenomeno del lavoro nero ed irregolare nonché le connesse manifestazioni di illegalità. Lo ha disposto il Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza e si colloca nell'ambito della missione istituzionale del contrasto all'illegalità economica e finanziaria con lo scopo di tutelare il corretto andamento del mercato del lavoro. Complessivamente sono stati eseguiti 175 controlli nel corso dei quali sono stati scoperti 191 lavoratori impiegati totalmente in nero oltre a 25 lavoratori la cui posizione è risultata irregolare con la conseguente verbalizzazione di complessivi 82 datori di lavoro. Ben 225 sono invece le posizioni lavorative ancora in fase di definizione per le quali sono necessari ulteriori accertamenti. Grazie.